E' bene, insomma, peccato, io parlo da Presidente della Fiorentina, peccato che non c'è Giuseppe Rossi, però l'allenatore Prandelli ha fatto le sue scelte, legittime. C'è stato un po' d'ammarezza però in questa storia. Ma no, insomma, non ci sono polemiche assolutamente, bisogna rispettare queste decisioni, soprattutto quelle di Prandelli. Il ragazzo da parte nostra, insomma, il ragazzo era pronto, però le scelte tecniche sono scelte tecniche, quindi lungi da me fare qualsiasi tipo di critica. Ha avuto modo di sentire il ragazzo, insomma, dopo la decisione di Prandelli, anche perché, insomma, anche nei suoi tweet abbiamo sentito un po' amareggiato, un po' polemico, non da Giuseppe Rossi, di solito. Beh, ragazzo giovane, ragazzo, sai, due mesi che si stava preparando a questa cosa, onestamente le ultime partite che abbiamo visto anche con noi, guarda caso, giocava e l'abbiamo vinte o ha fatto segnare, insomma. Per quello che riguarda me posso capire la sua amarezza, poi qualche parola di troppo magari si è detta, però adesso bisogna pensare alla nazionale. C'è la nazionale, però c'è anche il mercato. Eh, il mercato, ai ai ai, mi hanno detto i miei che di mercato non devo parlare, quindi adesso non ho previsto. No, no, sono momenti delicati, adesso stiamo cercando di prendercelo tutto, quadrato, poi quello che cercherò è di trattenerlo a Firenze. Ci sono possibilità, insomma, verrà riscattato. Sì, sì, ci stiamo lavorando, dovremmo essere proprio alle fasi conclusive, quindi per Firenze è una buona notizia. Assolutamente. Adesso poi questi giorni sono veramente caldi, in tutti i sensi, non solo i 40 gradi di oggi, però. Un tridente Mario Gomez, Pepito Rossi, quadrato, insomma, diventa competitiva veramente. Quello che ci è mancato, quello che ci è mancato, sia la finale di Coppa Italia, che è la cosa che recrimino di più, quella serata, ma soprattutto gli ultimi quattro mesi. Se pensate, siamo arrivati quarti, è così, insomma, da febbraio. Non abbiamo mai giocato con Gomez, va bene, ma Rossi è quadrato l'ultimo mese. Quindi questa è una Fiorentina che per il futuro sono più che un ottimista, sono strafiducioso. Poi qualche mestro ci sarà, insomma, il mercato è lungo.